Musica Musica Ciao carissimi e benvenuti in questo canale Questo canale si chiama Anagni Città Ernica Io sono Nadia Pellegrini Anna Maria, buonasera Buonasera Allora siamo qui nella parte più alta di Anagni Praticamente oggi potete vedere la cattedrale Santa Maria Ma un tempo qui sorgeva un anfideatro Perché Anagni è stata anche una città pre-romana Quindi il popolo ernico che l'ha abitata Era un popolo che adorava la dea Demetra e il dio Saturno E c'è tutta una leggenda attorno a questa storia Poco conosciuta Cosa vuol dire? Vuol dire che Anagni è conosciuta come città dei papi È vero che dopo l'impero romano ha dato Natale E al loggio estivo sia gli imperatori romani sia le famiglie legate So, Anna Maria ha usciuto una città di Anagni Anna Maria ha usciuto una città di Anagni Anagni Allora, noi vogliamo solo presentare il nostro canale Bis adesso abbiamo fatto solo 4 ture Ma andremo ancora Anna Maria, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, alle mie spalle vedete la prima parte della cattedrale Che è la cosa importante di questa cattedrale È che ha tre navate Molto rara, perché non ce ne sono molte nel mondo La prima parte è romana Forse non si vedono Ma poi faremo un video per farvi vedere i simboli pagani E diciamo che da questa zona qui dominava tutto Nel senso che la città ermica era abitata solo da sacerdoti e da sacerdotesse Quindi le porte servivano come ingresso E le mura, che poi faremo un video da parte Rappresentavano la fortezza di questa città Perché all'interno veniva tenuto acceso il fuoco sacro Per la Dea Demedra e per il Dio Saturico Allora, Anna Maria ha usciuto un po' di storia E' la sua storia Qui in cui era ricco in Giova Anani è stata fatta a Monodera Cittàέρale di Dio Dimedris Città, la storia con la sua storia di saturno E' la storia di Dio Saturico Allora, in cui, in quanto rigido per i prossimi video Abbiamo raccontato, un'altra video, in cui, E' ora dei bisogni Un'altra video di un'altra domona Il medioevo, siamo nel centro del medioevo. Anagnes, come ha detto Anna Maria, è conosciuta come Anagnes, città dei babi, perché ci sono stati quattro babi. Anagnes è molto conosciuta, è stata chiamata da papi, perché qui avevano 4 papi. La papi avevano una famiglia di una famiglia di famiglia. Può dire che prima le papi avevano solo papi. Ok, allora, continuiamo con il nostro tour. Io vi saluto, ciao da Nadia, un cuore da Italien. Maria. Grazie. Grazie. Grazie.